Eeeh whattay a tutti ciurma e benvenuti raggiocherina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima Vi ricordo ragazzi il vostro sostenibile hack assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 hack ragazzi So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando spolliciate Ed eccoci qua di ritorno signori e signori dopo che la volta scorsa finalmente siamo riusciti a dare una piccola svolta alla storia Perché anche senza l'aiuto di Ryuzo e dei suoi cappelli di palvia alla fine siamo riusciti a salvare Lord Shimura E a liberarlo riconquistando tra l'altro il castello di Kaneda sconfiggendo tutte le truppe mongole che erano rimaste lì Il problema è che abbiamo scoperto che Ryuzo ci ha traditi Perché ragazzi? Perché è stato sedotto dalle proposte del Kotun Khan Gli ha proposto quindi di sfamare lui e i suoi uomini in cambio ovviamente di fedeltà E lui ragazzi non ha guardato in faccia niente, nessuno infatti ci ha voltato le spalle Lo abbiamo affrontato, lo abbiamo ferito, non è morto perché effettivamente non è ancora morto Anche se credo che comunque ci sarà sicuramente un altro scontro Il problema è che due giorni dopo ragazzi il Kotun Khan con le sue truppe è andato al castello Shimura E se ne è impadronito per cui il nostro obiettivo attuale è riuscire a riconquistarlo E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui Yuna è tornata insomma a darci una mano in quanto Lord Shimura comunque le ha promesso un passaggio sicuro fino al Giappone Una volta finita tutta questa storia per cui adesso ragazzi non ci resta che andare a riconquistare il faro Quindi per cercare di riconquistare completamente questo forte Grazie per essere qui Yuna Sei stata un ottimo diversito È un onore servirvi signori Servono guerrieri come te al nostro fianco in battaglia Sarà difficile trovarli Se non ampliate i vostri occhi Allora da qua ragazzi vediamo un po' per raggiungere il faro Mi sa che conviene fare il giro di qua Per cui facciamo una corsetta assieme al nostro zio Che cosa che è davvero carina E dirigiamoci verso il faro Mi chiedo quale sia il piano per riprendere il castello Shimura ragazzi Non sarà tanto facile in effetti Dobbiamo salire sul faro Dici quello che devi e poi lasciaci andare Ok Yarikawa ha molti guerrieri E se le sue mura resistono Ho soffocato la ribellione di Yarikawa Ma sua gente non mi ama Lo so Sono cresciuta lì E dove hai imparato a rubare? Yuna ha molta stima di te Lord Shimura Convincerà la gente a lottare per il tuo vessillo Molto bene Aiuta Lord Sakai a radunare questo esercito E sarai sulla prima nave per il Giappone Con mio fratello Aspettami nella città vecchia Grazie Jin Ok Azzo Qua si scoprono altre cose ragazzi Quindi Yuna viene da Yarikawa Dove Lord Shimura aveva soppresso una ribellione Per questo che la gente di quei luoghi Non lo può tanto soffrire Però Se lei ci darà una manina Riusciremo a costruire Quindi ragazzi un piccolo esercito Soltanto così possiamo Riconquistare il castello Shimura Ci servono Tanti guerrieri Tanti soldati Chiamiamoli come ci pare Quindi Andiamo di sopra va Aspetta E da qui? Si Vediamo un po' eh Continuiamo a salire Ed eccoci qua Ok Si Dobbiamo quindi Accendere il faro Per mandare un messaggio A Cotton Khan Ok Perfetto ragazzi Abbiamo conquistato un altro punto tecnica L'altro lo avevamo già usato Infatti ne abbiamo uno solo a disposizione Quello che il Khan lo veda Lo farà Riconquisteremo il tuo castello Zio E annienteremo i Mongoli Davveri samurai Torna a casa e prendi l'armatura di tuo padre Recluta gli abitanti di Yarikawa Io chiederò altri rinforzi allo shogun Come mandi un messaggio in Giappone? Grazie a qualche lusca conoscenza Il pirata Goro Alla baia di Umugi Mi deve un favore Se è vivo Lo troverò Portalo al nostro vecchio campo da caccia Ci rivedremo presto Fino ad allora Fai attenzione Non posso perderti ancora Ok ragazzi Ok Signore abbiamo liberato un prigioniero Un monaco guerriero Vuole parlarvi Un monaco guerriero Parliamoci Come sempre riesco a precedere ragazzi Le battute Ma qua la cosa comincia a farsi un pochettino più densa Diciamo così Quindi dobbiamo comunque reclutare persone da Yarikawa O comunque da tutte queste zone limitrofe ragazzi E inoltre lo zio dice Guarda Lo shogun Magari ci darà una mano Come gli invio un messaggio Eeeh Ragazzi Losche conoscenze Quindi ci affideremo ad un pirata Di nome Goro Quindi seguiamo questa donna E andiamo ad incontrare questo monaco guerriero Vediamo Cosa da dirci insomma Era un prigioniero Magari in un modo o nell'altro Anche questo tizio potrà darci una mano O comunque Magari delle informazioni utili Beh Ah è qua dentro Ok Ero convinta di dover seguire la donna all'infinito L'è comparsa una scopa dal nulla Va benissimo così Ok Permesso salve Buongiorno Usate Sono entrata Prendo queste provviste E me ne vado E anche queste altre provviste Ma quanto è precisa sta gente ragazzi Sto tipo si è alzato solo per farmi un inchino Scusate eh Ho sbagliato posto Non dovevo entrare qua dentro Ok così E questo è il monaco guerriero Ammazza che lancia L'or Sakai Ringrazio voi e i vostri compagni Dove operi? Al Tempio del Cedro Noi monaci andammo a sud Per combattere i mongoli Dopo la notizia di Komoda Ma Il viaggio terminò qui Mi dispiace Cos'è successo? Tesero un'imboscata E ci catturarono Ci gettarono In una fossa coperta Senza cibo Era così buio Che non ci si vedeva Un palmo dal viso Credo presero Prima Jogon Lo sentimmo Dimenarsi E urlare Poi Gridare Sempre più forte C'era odore di Bruciato Rifiutammo Di sottometterci Eravamo rimasti In tre E presero Mio fratello Enjo Enjo Il guardiano Mi dispiace molto Era un grande guerriero E un fratello esemplare Come ti chiami? Norio Mio signore Hai capito ragazzi I monaci Cioè Pure i monaci Hanno imbracciato le armi Pur di non farsi sottomettere Cioè Minchia Eravamo rinchiusi qui Ci entrano a fatica Sei persone Noi eravamo il doppio Vieni con me Norio Voglio mostrarti una cosa Vieni da Toyotama Com'è la situazione lì? Sopravvivono il Kushidera E i guaritori di Akashima Pare resista anche il covo pirata Della baia di Umugi Ok Questo ci interessa Perché è proprio lì Che sarebbe questo pirata Goro Ragazzi Se non sbaglio Hanno parlato proprio di Baia di Umugi Mi sto allontanando Quindi la porta settentrionale Quindi dobbiamo andare Da quest'altra parte Ragazzi Stavo sbagliando Porta Molto bene Sto tizio già mi piace Purtroppo assistito alla morte Ad amici E cari Situazioni buone Fermiamoci qui Gli invasori arrivano a migliaia Ora che Lord Shimura è libero Può condurci alla vittoria Spero che ti unirei a noi I monaci del tempio ci aiuteranno Sono a una giornata di viaggio Unitevi a loro E insieme rispediremo i mongoli in mare Vendicheremo tuo fratello, Onorio E tutti i monaci morti qui Non cerco vendetta Ma combatterò per la pace Ok Wow 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 Ok E acquisiamo anche un nuovo punto tecnica Quindi adesso ne avremo due da spendere ragazzi E quindi possiamo Andrò ad aiutare i guaritori del villaggio di Akashima Ci servirà il loro supporto in questa lotta Posso presentarvi Hochi Mio fratello diceva sempre che era un guaritore senza pari Ci vediamo ad Akashima allora Perfetto Quindi ragazzi potremo contare anche sull'aiuto di questi monaci A quanto pare di questi curatori Per cui il castello Shimura ragazzi è diventato ovviamente territorio mongolo Per cui avremo diverse cose da fare ragazzi Allora vediamo un attimino come si è aggiornata la mappa Quindi attualmente abbiamo tre cose principali da fare ragazzi Recuperare l'armatura di famiglia per rappresentare il clan Sakai Dopodiché reclutare la gente di Harikawa per radunare un esercito E quindi chiedere allo shogun di inviare samurai come rinforzi Quindi allora il territorio più vicino ragazzi è questo qui Quindi questo dovrebbe essere quello di mandare un messaggio allo shogun ragazzi Direi di impostarlo come destinazione E non possiamo fare viaggi rapidi perché ovviamente in questa zona ragazzi Non abbiamo scoperto alcun territorio Per cui chiamiamo Sora il nostro destriero Che però non vedo Vabbè in ogni caso Non so se è più saggio passare da qui ragazzi Eccolo qua Perfetto E qua inizia l'atto 2 ragazzi Il cui obiettivo principale è quello di riconquistare il castello Shimura Allora voglio capire quale sarebbe il giro migliore da fare Perché qua vedo dell'acqua ragazzi Quindi sinceramente Ah vedete Qua si è aggiornato ragazzi con quell'obiettivo secondario Che avevo immaginato si sarebbe creato la volta scorsa Perché dice Kotun Khan sta inviando soldati a razziare le fattorie di Zuara Libera le fattorie e salva la tua gente Quindi questo è ovviamente un obiettivo secondario Che in ogni caso sarebbe importante Quindi allora penso sì di poter fare il giro da qui Per cui direi di metterci in viaggio ragazzi Di non perdere ulteriore tempo Perché comunque la zona di Umugi dista un chilometro e mezzo Quindi a cavallo ci metteremo un attimino Che dire io sono veramente molto curiosa di vedere come adesso si svilupperà il tutto Perché sicuramente ci saranno dei risvolti anche inaspettati Perché qualche colpo di scena in un modo o nell'altro Ce lo avranno messo ragazzi Come per esempio quella del tradimento di riuso Che io sinceramente non mi aspettavo Nonostante comunque come personaggio mi avesse puzzato già un po' in effetti Ok ragazzi siamo appena entrati nella prefettura di Umugi Allora ragazzi in mezzo a questo campo di fiori meraviglioso Vi annuncio che ormai siamo vicinissimi al nostro obiettivo Allora questa locanda purtroppo è territorio mongolo Ma mancano poco più di 100 metri Siamo praticamente arrivati E sono curiosa anche di conoscere questo pirata Cui a quanto pare affideremo il nostro messaggio L'obiettivo è di qua ragazzi Seguiamolo Cerca la baia di Umugi Ormai dovremmo esserci Sarà poco più avanti suppongo Anche se non è effettivamente molto chiaro dove si deve andare Ma immagino che ormai ci siamo ragazzi Ecco qua vedete Baia di Umugi Era poco più avanti Davvero fantastico e meraviglioso Quindi avanziamo E vediamo un attimino Chi incontriamo da queste parti ragazzi Fermo Ronin Dimmi cosa cerchi Non sono un Ronin Mi chiamo Jin Sakai Un samurai Lady Sanjo vorrà vedervi È a capo della baia di Umugi Vi prego di seguirmi Ok Vorrà dire che Ok che conosceremo questa Lady Sanjo A capo della baia di Umugi Caspiterina Ha detto niente Guidami pure figliolo ti seguo Lord Sakai Ecco Lady Sanjo Benvenuto a Umugi Buongiorno Un posto ancora sconosciuto ai Mongoli Per fortuna Sono anni che la baia non si tinge di sangue Chi sfodera le armi deve vedersela con i miei uomini Attieniti a questa regola E non avrai nulla da temere E adesso Dimmi come posso aiutarti Cerco un contrabbandiere Bene È al pieno di sotto Che si scuola la terza bottiglia di sake Divertiti con lui Grazie Torna a trovarmi Credo che potremmo aiutarci a vicenda Beh ne sono convinta anch'io Lady Sanjo Intanto mi prendo questo cuoio E a quanto pare dovremo avere a che fare ragazzi Con un ubriacone Che meraviglia Vediamo un po' qual è di questi Eccolo qua Salve Devi essere Goro Siamo tutti qualcuno E voi chi siete? Lord Sakai Ah I samurai sono tutti morti Qui ne hai uno vivo mi pare Ma con la pazienza al limite Lord Shimura Chiede il pagamento del tuo debito È vivo? Che cosa vuole? Che consegni un messaggio in Giappone Una tratta che vendevo molto cara Ancor prima del blocco dei Mongoli Ma tu hai un debito Così lo salderai Quindi non ho scelta Credevo che Komoda avesse cancellato il mio debito con Lord Shimura Ecco perché bevevo Per festeggiare la fuga Per piangere i samurai Sono morti Difendendo gente come me Onora il loro sacrificio allora Se la pensi così Trova il coraggio E aiutaci a vendicarli Ancora Ci serviranno molti altri samurai per farlo Li avremo Quando consegnerai il messaggio di Lord Shimura Questa è casa mia Entrate Pensavo mi sarei trovata di fronte a un altro tipo di personaggio sinceramente Invece Non sarà facile superare quel blocco di Mongoli Avete il messaggio di Lord Shimura? Ce l'ha lui Al campo sulla costa di Akashim Posso farcela Ho una barca nascosta vicino a Forte Mitodake La mappa mostra il punto della foresta dove attenderò Ok Prendiamo la mappa Una mappa per l'imbarcazione clandestina di Goro Nascosta nella prefettura di Harikawa Aprici Goro Non ce ne andremo finché non avrai pagato il debito Ecco qua Sbrigati Pensateci voi Ci vediamo ad Akashima Lord Sakai Va benissimo Niente alla fine me la devo vedere sempre io Sappiamo che sei Non avevo chiesto Ronin Mio signore Che affari avete con Goro Sono fatti i miei no? Privati Beh torneremo Ci stiamo cacando sotto Quindi allora ragazzi dobbiamo raggiungere Lord Shimura al suo vecchio campo da caccia Che dista la bellezza di quasi due chilometri Temo di non poter Ah si posso fare viaggio rapido fino a qui per fortuna ragazzi Perché se no a cavallo veramente sarebbe stata abbastanza lunga Quindi Goro ci ha assicurato che ci darà una mano ragazzi Perché deve comunque saldare un debito con Lord Shimura Quindi questo volge al nostro vantaggio ovviamente Per cui vediamo di raggiungere nostro zio ragazzi Che però è fuori da questo piccolo villaggio Quindi mi sa che mi conviene comunque prendere Sura ragazzi No a piedi veramente ci posso mettere vent'anni E in arrivo anche una bella tempesta Che meraviglia Questi paesaggi sempre così meravigliosi ragazzi Guardate quanti fiori Che bello mamma mia Tutto così dannatamente bello E il nostro zio ci attende ovviamente in un luogo Che più d'atmosfera non avrebbe potuto essere ragazzi Santuario della roccia palustre Nostro zio è di qua Attento signore questa via è pericolosa Ok va bene non ci possiamo entrare al cavallo Quindi comunque nostro zio non sarà qua dentro Probabilmente sarà qua fuori in qualche modo Non lo so Vediamo un po' ragazzi Sì ci stiamo avvicinando Credo che comunque sia fuori di qua Quindi richiamiamo il nostro fidato destriero E galoppiamo verso nostro zio Ci stiamo avvicinando E gli faremo sapere che quindi Goro Collaborerà con noi Palude della Lucciola E qua? E' proprio qua ragazzi Ce l'ho fatta Che bello che bello Finalmente Novità Sì zio Lord Shimura Ho trovato Goro a Omugi Era ubriaco? Non più Salperà per il Giappone E ripagherà il suo debito Sarà anche l'osco Ma pochi conoscono il mare come Goro Consegneranno loro il tuo messaggio? Esatto Rotaro e Giro sono leali e coraggiosi Presenteranno allo Shogun una richiesta di rinforzi Goro è pronto Ci aspetta qui vicino per condurci alla barca Partiremo al momento opportuno Approfittane per prepararti a combattere Sì zio Perfetto Non pensavo sarebbe stato così improvvisamente Cioè pensavo che avremmo potuto fare nel frattempo altro E invece no ragazzi Ci buttano direttamente nell'azione Andiamo Quindi accompagniamo nostro zio a incontrare Capisco sempre quando vuoi chiedermi qualcosa Sentiamo Come hai conosciuto Goro? Scopri che vendeva seta cinese Poi invita dallo Shogun Piedi fuoco alla merce l'olacenda Una saggia strategia Meritava la frusta Ma trovasti una soluzione migliore Un abile marinaio può rivelarsi utile I mongoli hanno molte navi Goro riuscirà a evitarle tutte? Non ha scelta Cosa facciamo se ci prendono mio signore? Non temere la morte Kotaru Vivi con coraggio Ricorda sempre chi hai giurato di difendere L'Orshimura Goro Dov'è la comarca? Di qua Perfetto Sono felice che siate vivo signore Grazie per voler onorare il tuo debito Farò il possibile Ma temo che i mongoli affonderanno la barca Non appena salperà Tropi occhi vigilano sulle acque Forse possiamo distrarre Creare un piccolo diversivo Insomma Per permettergli almeno di Insomma Allontanarsi con la barca Perché se no Mio padre lo sottrasse al clan Yarikawa Ora è dei mongoli Come tutto il resto Immagina la loro sorpresa Quando due samurai lo riconquisteranno Se mettiamo il forte in subuglio Le navi si concentreranno su di esso Trascurando le acque Goro Gli occhi del nemico saranno puntati sul forte Salpa appena inizia la battaglia Mio signore Vi uccideranno Pensa solo a consegnare il mio messaggio I cavalli possono farci scoprire Si va a piedi Lord Sakai Perfetto Quindi Dobbiamo riconquistare Questo forte Per creare comunque un diversivo E permettere a Goro Di allontanarsi con la sua barca appunto Ti seguo zio Ti seguirei fino in capo al mondo A questo punto Con quell'elmo Soprattutto L'armata mongola è potente Ma il nostro attacco Li coglierà di sorpresa Speriamo vada così al forte Sono più numerosi Ma non possono attaccare tutti insieme Quanto potremo contare Sul fattore sorpresa? Solo finché non vedremo il nemico Poi Colpiremo Perfetto Vabbè In un modo o nell'altro La scamperemo ragazzi Potremmo evitarli Volta le spalle al nemico E morirai con la schiena trafitta Ok va bene Li tenderemo un'imboscata E li faremo fuori Cioè Meglio di così Che possiamo fare Benissimo Così Senza pietà ragazzi Senza pietà Non ci provare Non ci provare Non ci provare Ecco fatto Perfetto Almeno così li stordiamo E li facciamo fuori Molto più facilmente Ragazzi Questo è un capo Mi sembra di sì Certo Un attimo Zio Non vedi che ho da fare No Pensavo fosse un capo Ma non lo amicchia Sì 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 Aspetta Mannaggia Lui va Lui va Lui va Già all'arrembaggio ragazzi Perfetto Forma dell'acqua Adatta per i tipi Con lo scudo Vi è qua per andare Bello Ecco fatto Perfetto Arrivo ragazzi No i cani no I cani no Dov'è io Aia Forza bello Oh Ma attacchio Devo fare da sola Devo fare da sola Ho capito Va Ecco va La miglior difesa È l'attacco Signori Fuori un altro Aspetta zio Ci penso io Mannaggia Muore Lui da feccia Bellissimo Mizzica Regà C'è due samurai Contro Un forte Pieno Di mongoli Non so se Rendo l'idea Che Andiamo E facciamo Devastazione Eh Funai Utilissimi Contro i grossoni Forza Ok E minchia Stanno da un fastidio Che non vi potete immaginare Bravo zio Bravo Dagli addosso Vai 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 Allora io mi occupo Dell'altro Eh Di provare Ecco fatto Ok È arrivato il momento Di entrare Signori Signori Le apro io le porte Zio Non ti preoccupare Sono fiero Di lottare al tuo fianco Lo senti il loro terrore Vero guerriero Grazie Perfetto Resta in allerta Sicuro Vabbè con lui ragazzi Con lui Oh Ma vado a fuoco Sì arrivo zio Arrivo Mamma mia Poi ci danno a fuoco Sì sì Sicuro E niente Lui va Lui fa Lui apre Le spalanca No Pam 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 Tan tan Taran Tan Tan Eh E certo zio Io sono io Sto serrendo l'idea Chi altro c'è di qua Ciao bello Ecco fatto Tan Ok Fantastico Qualcuno merita i kunai Che ho usato Perfetto I cani I cani Poveri cani Raga Mi piace così tanto Ecco qua Provistine Provistine Le ho raccolte Aspetta Adesso Cane Ogni volta ragazzi Mi fa un male fare questa cosa Tutta di a terra zio Ecco Come ho fatto io Ma dov'è sta gente Ma dov'è sta gente Non sto vedendo niente C'è un fumo qua dentro Ok provistine Andiamo zio Non si respira Abbiamo tutta la loro attenzione Beh direi Senza Il cane che Poverino Poverino Fa quel che può Ah Se dai Mannaggia La miseria Se dai fuoco I tuoi compagni Mi sta pure bene Poi viene a rompere Le scatole A me Però Scusa Vi è qua Stiamo avanzando Zio Vedi che vado Come una furia Oddio No Quella no Quella no Ci provo zio Andiamo 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 Senza Già Attenzione Arrivano le frecce Incredibile Vuole un altro Coraggio Ehi 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 Oddio Grossone Grossone Aspetta Aspetta Ebbani Scusa Gli amici Loro Però pure Finiscono Sotto Alle frecce No Non toccare Il mio Zietto Ha preso Fuoco Infatti Non indietreggiare Avanti No Zio Mi sta colpendo Che devo fare Colpo di grazia L'hai colpito Colpo di grazia Ok Va bene Non indietreggeremo Zio Andiamo avanti Allora Avanti tutta Perfetto Continuiamo a salire Altri cani Eh poveri cani Poveri cani Dico sempre Le frecce Ragazzi Possiamo utilizzarle A nostro vantaggio Non vorrei dire Ma Altri mongoli Avanti Comunque Colpiscono Colpiscono Anche Oddio I nostri nemici Tantanta 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 Eh Oh Parca miseria Alla fine C'è riuscito A mandarmi a fuoco Aia Tu puta madre Mi ha accolto Alla sprovvista Ragazzi Sto andando a fuoco Prendo fuoco Oh Oh Arrivano i cani Signore e signori Aia Maledizione E su Vi è qua Mannaggia Regà Mi dispiace Ma Devo farlo Sti cani Sono proprio un dito Nel sedere Ragazzi Ma Mio zio Dov'è Scusate Dai 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 Che fai Pazza Regà Ecco Fatto Uh Questo che non mi sembrava un capo E un capo Ne mancano ancora tre Per sbloccare La forma Del vento E arrivo Zio Aspetta Aspetta un attimo Che Vedo che qua c'è qualcosa di utile Grazie Prego Zio Ti vedo un attimo In difficolti Che mi sembra Veramente Improvabile Visto che tu sei l'ordici Mura Voglio dire Ti seguo zio Ti seguo Raggiù Agia Porca miseria Oh Mannaggia Ho usato già due pallini Di determinazione Ragazzi Infatti lo siamo Per la miseria Stiamo arrivando Per la miseria Per la miseria Ah Porca vacca Manco Lietro le rocce Su al riparo E che cavolo Allora Buon in attimo Posso usare l'archino Sì ecco Sì ecco Giustamente pure loro Lo usano Mi fanno malissimo Oh Non sono riuscita a fare Headshot Ragazzi Vediamo Ok Adesso si Boom 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 Headshot Sire e signori Ce l'ho zio Vado Mi divertirò un sacco Se lo posso usare Ah ecco Facciamo passare Prima lui Giustamente Ci siamo Sì Abbiamo guadagnato tempo Ma non basta I mongoli li hanno scorti E hanno navi più veloci I nostri uomini Sono indifesi Aia Ci siamo noi E abbiamo uno guaccia Un'arma del nemico Non da samurai Conta solo salvare La nostra gente Sai farla funzionare Imparerò Distruggi le navi mongole Lascia le guardie a me Zio Non moriremo qui Ragazzo mio Certo che no Uuuu Adesso ci si diverte Non far avvicinare le navi a Goro Ok Fuoco Funziona Le navi mongole hanno preso fuoco Adoro Ok ragazzi Niente Cioè Nonostante Siamo riusciti a creare Un diversivo Qua al forte Mannaggia la miseria I mongoli Che comunque Se ne sono accorti Perfetto 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 E' bellissimo E' bellissimo Vederle saltare in aria Ehi Non rallentare Vado 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 Vi faccio fuori Vi faccio saltare in aria Dio santissimo Oh cavolo Uso le vostre stesse armi Merdacce Divertente Per caso Attenzione Devo far fuori anche quella barca Allora Quella nave Se ormai Ce la faccio Farla saltare Ma è bellissimo Tutto a ciò Ragazzi Come Mi diverto Adesso fa boom Farà boom Sì 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 Don't worry Ci pensi Intanto facciamo saltare in aria Questa qui ragazzi Ok Che è quella più grande Oh cavolo No Mannaggia Mi so concentrata Su quelle grandi Non mi so accorta Che c'erano quelle piccole Che lo raggiungevano Ah mannaggia la miseria Dove fare tutto Ok Adesso dovrebbe saltare in aria Anche quell'altra Non è ancora saltata in aria Accidenti Ok Perfetto ragazzi E' saltata in aria Anche l'altra Adesso Sì posso prestare attenzione Comunque Al circondario Arrivano altre navi Resisti Dove dove sono Non le vedo Dove sono Eccole là Sono spuntate da dietro Ottimo Portaci i rinforzi Dello shogun Sì E' andata Non ne dubitavo Mi mostri sempre Che i mongoli Si possono battere Sono il tuo allievo Non potevo deluderti Non l'hai mai fatto Sono fiero Del guerriero Dell'uomo Che sei oggi Jin il mio messaggio Allo shogun Includeva un annuncio Voglio che tu sia Legalmente Mio figlio Sì In cuor mio Tu sei sempre stato Il mio erede Quando la guerra sarà finita Lo sarai ufficialmente Un giorno Il popolo guarderà te Per essere guidato Diventerai il loro onorevole Egito Sostenuto Da tutti i poteri Dello shogun Spero di servire il popolo Come hai fatto tu So che lo farai Dobbiamo ultimare i preparativi In attesa dei rinforzi Dello shogun Quali sono gli ordini? Indossa l'armatura Di tuo padre E recluta la gente Di Iarekawa Vediamo quanto possiamo Fidarci della tua amica Vedrò Yuna E prenderò l'armatura Al villaggio di Oda Quando sei pronto Raggiungimi all'accampamento Di Kubara Poi Sottrarremo il mio castello A Khotun Khan E salveremo il paese Come padre e figlio Perfino lo shogun Celebrerà la nostra vittoria Ci rivedremo presto Fino ad allora Fai attenzione Che saltino Graziato Ragazzi Questa cosa è stata Molto tenera Perfetto Perfetto L'abbiamo Completato Ragazzi Quindi chiedi allo shogun Di inviare rinforzi Dal Giappone E qui Becchiamo un altro Punto tecnica Sono stata veramente Sono stata veramente Molto sorpresa Perché Cioè in un momento Del genere Non mi sarei aspettata Una notizia del genere In effetti È stato molto Molto tenero Ragazzi Molto dolce Come cosa Allora Un attimino Vediamo un attimino Ragazzi Quindi come utilizzare Questi Punti Tecnica Allora ragazzi Questo potrebbe essere Interessante E comunque ci sbloccherà Ovviamente le altre cose Più in basso Quindi uno scatto Che ti permette di caricare I nemici E di farli arretrare Quindi mentre scatti Premi cerchio Per schiantarti Contro un nemico Potrebbe essere utile Ragazzi Comunque In qualsiasi momento Quindi direi Di comprarlo Benissimo Dopodiché Questi due Attualmente Non mi interessano Più di tanto Allora Per quanto riguarda Lo spettro Ragazzi Questo Ad esempio Mi interessa molto Perché Aggiunge Un altro kunai Al lancio Dei kunai Quindi invece Di due Tre Dovrebbe essere Sì Ne direi Assolutamente Questo pure Ragazzi Interessante Udito fine Permette di individuare Nemici ancora più Lontani Grazie ad un ascolto Più attento Comunque Può essere utile Poi soprattutto A me Per quanto riguarda Le fasi di stealth Quindi Utilizzerò L'ultimo punto Tecnica Per comprare Questa nuova Abilità Benissimo Quindi ragazzi Attualmente Quello che dobbiamo Fare È di reclutare La gente Di Arikawa Dopodiché Recuperare L'armatura In famiglia Per rappresentare Il clan Sakai Io penso Che la prossima Volta ragazzi La prima cosa Che farò Sarà Andare a prendere Questa benedetta Armatura Anche se Effettivamente Siamo molto più Vicini agli Arikawa Quindi credo che la prossima volta Andremo prima a Arikawa ragazzi E poi come ultima cosa Andremo a recuperare Questa benedetta Armatura di famiglia Quindi di regola Una volta completate Queste tre robe Avremo abbastanza forza Per andare a Riprenderci Il castello Shimura E una volta fatto ciò Saremo ufficialmente Figli Di lord Shimura Ragazzi A me questa cosa Mi ha commosso molto Perché comunque Sì è lo zio Lo ha preso con sé Dalla morte del padre Quindi è come davvero Se fosse stato Sempre suo figlio Evidentemente Li ha sempre voluto Bene come un figlio E quindi vuole Che questa cosa Sia ufficiale Per far sì Che comunque In futuro Quindi Jin Abbia tutti i diritti Anche penso Per quanto riguarda Eredità E robe simili Anche per quanto riguarda Il potere E tutto il resto Quindi è un gesto Veramente molto bello Ragazzi Sono molto curiosa Comunque poi Di vivere il momento Ragazzi In cui andremo a recuperare Il castello Shimura Sperando sempre Che vada tutto bene Perché comunque Forse mongole dal mare Ragazzi Continuano ad arrivare Nel Kotunkan Non è uno sprovveduto Penso che Si aspetterà anche Magari Un attacco Da parte nostra Quindi forse Non si farà Accogliere di sorpresa E comunque Scacciare i mongoli Da Tsushima Ragazzi Non credo che sarà Proprio una passeggiata Quindi voglio veramente Vedere Come si evolverà La situazione Come sempre Aspetto i vostri pareri Qua sotto in commento Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione E ho buttato A tutti i ragazzi Da giocherina Ciao Ciao